Ciao ragazzi, è domenica, per voi che cosa significa Sunday Fundy? Per me, pallacanestro. Non so se avete capito dove sono, forse ancora no, ma a breve lo scoprirete, venite con me! Beh, ora lo avete capito, chiaramente siamo a Milano, questa sera X-Arman Exchange Milano, happy casa Brindisi, che dite, riusciremo a riempire il forum così? Oggi a vedere la partita ragazzi, anche due superpersonaggi hanno conquistato il web, soprattutto il biondo qua. Naturale, tra l'altro. Ali della Giusta, super youtuber, appassionato di pallacanestro, bravissimo sul campo, l'abbiamo già visto. Ciao. Sempre di molte parole. E Tommy Marino. Biondo naturale, tra l'altro, ci tengo. Va bene, avete capito il disagio, ok. Ragazzi, sono qui con Chef Rode, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Quale è la migliata migliata per un giro di basket, magari per il giro? La migliata migliata è per mantenere qualcosa di leggero, magari un buon fischio, un po' di frutta, un po' di frutta, ma niente troppo pesante. Non di pasta come voi fanno ogni giorno, ma non per i miei giocatori, dobbiamo mantenere la leggera. Siamo italiani, sempre comiamo pasta. Oggi sono qua a sostenere Milano. Forza Milano. Ciao. E qua tutte le partite per dire a Tirti. Ma proprio tutte, eh? Quasi. 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 Grazie per la visione!